Ciao tifosi, per chi non mi seguisse, io sono un tifoso del Palermo e quest'anno diciamo che la squadra Rosa Nero ha fatto una stagione assai deludente e quindi ho affrontato questo europeo consapevole del fatto che l'Italia ha cambiato allenatore proprio quest'anno e quindi c'era un ciclo da ricostruire e questi europei erano un importante banco di prova per capire effettivamente quali potevano essere i giocatori giusti per la nuova Italia però non mi sarei mai aspettato delle prestazioni simili perché va bene che ancora devi trovare i giocatori giusti ti ritrovi al alchimia e devi comprendere appieno le idee del nuovo mister ma non puoi entrare in partita con questo atteggiamento, assolutamente no. Io mi ritrovo ancora una volta amareggiato e non comprendo cosa sia successo perché per quanto mi riguarda almeno il primo tempo contro l'Albania era molto positivo si era visto un atteggiamento diverso, un'Italia molto più propositiva che ha cercato di offendere anche se magari il gol di Barella è stato casuale, anche se è stato bravo lui a tirare da fuori comunque si è creata un po' così la situazione di gioco e il gol di Bastoni invece è stato un calcio da fermo però ragazzi, poi nelle partite dopo contro la Spagna, contro la Croazia e contro la Svizzera quell'Italia è andata man mano scomparendo nonostante anche il cambio dei vari interpreti quindi Spalletti ci prova contro la Svizzera cambia alcuni singoli, mette dentro fagioli, non fa giocare Giorginio abbastanza forse messo in discussione visto che doveva essere il play che però non si è mai messo in mostra in questo europeo poi mette dentro anche Sharawi dall'inizio perché cambia il modulo, gioca con 4-3-3 e mette dentro anche Cristante, chiesa dall'inizio e ripropone Scamacca, unica punta però non c'è niente da fare non c'è niente da fare perché il problema principale è l'atteggiamento in campo la poca lucidità anche nel frasseggio dei passaggi tantissimi errori pochissima aggressività sui portatori di palla e di conseguenza il gol della squadra avversaria prima o poi insomma, doveva arrivare, ce la dovevamo aspettare e arriva arriva con una situazione molto imbarazzante perché è un giocatore che la serie la conosce molto bene Freuler, come diversi giocatori d'altronde della squadra della nazionale svizzera viene pescato all'interno dell'area di rigore e da come possiamo vedere dal replay Freuler praticamente si inserisce con una tranquillità disarmante dentro l'area di rigore ha il tempo di stoppare e tirare in porta poi c'è un po' di sfortuna perché Mancini ecco, anche lui messo in campo tre volti nuovi in scivolata prova a deviare invece mette fuori tempo Donnarumma che non può nulla e quindi il pallone entra in rete quindi go che ci aspettavamo tutti arriva quasi, diciamo, se non erro, verso il quarantesimo e infatti a quel punto noi non vediamo l'ora di andare negli spogliatoi per cercare un po' di riordinare le idee e capire effettivamente come poter capovolgere il match infatti penso molti tifosi si sarebbero aspettati un cambio netto quindi di atteggiamento, di aggressività e nel voler anche riprendere il match e invece arriva l'amazzata subito un po' come è successo per quanto riguarda il primo gol contro l'Albania che ci ha fatto appunto la sua d'avversaria perché dopo 30 secondi arriva il gol della Svizzera con un Vargas che ha tutto il tempo di preparare e tirare lui è bravo io già l'ho visto in passate edizioni di europei, mondiali è uno che quando all'occasione tira sa sfornare bei gol ed è successo è successo, fa un bel tiro a giro che si insacca e Donnarumma questa volta non può nulla è un po' come per il primo gol e quindi 2-0 della Svizzera subito flash gol che praticamente taglia le gambe però secondo me se tu sei consapevole della maglia che indossi hai la possibilità a meno di pareggiare e quindi secondo me gli azzurri ci avrebbero dovuto credere di più e invece niente da fare niente da fare non c'è sintonia tra i giocatori tantissimi errori, non si riesce a trovare il dialogo tra loro poi per carità arriva prima un palo su quasi un autogol del giocatore della Svizzera e poi arriva un altro palo e lì diciamo che c'è Zaccagni c'è un lancio di Cristante Zaccagni prolunga di testa e Scamacca con il suo piedone non riesce a buttarla dentro prende il palo quindi Scamacca bocciato per questa occasione ditemi la vostra perché comunque l'attaccante ha avuto poco modo di mettersi in mostra e poi più nulla ragazzi c'è un tiro di Chiesa nel primo tempo che ho tralasciato c'è un tiro di Retegui che secondo me forse è l'unico che è entrato bene come ricambio diciamo durante il match perché ho visto che aveva voglia provava a fare la sponda anche se poi non c'era nessuno però ci metteva il suo ecco ma proprio il resto ragazzi desolazione totale e secondo me questo è un grosso segnale d'allarme l'Italia esce dagli europei come vincitrice degli ultimi agli ottavi esce agli ottavi e questo deve fare pensare tanto si vede che anche i singoli non sono all'altezza dell'Italia c'è da fare un grosso ricambio dei giocatori utilizzati in questo europeo e poi insomma c'è poco altro da dire poco altro da dire per quanto mi riguarda forse i giocatori che meritano di continuare a indossare la maglia azzurra sono Donna Rum Barella un Calafiori che è stata una delle pochissime note felici di questo europeo e poi Chiesa anche se in questo insomma in questo europeo non ha avuto granché modo di mettere in luce la sua abilità tecnica ma secondo me quando è in forma può fare la differenza poi per il resto ragazzi niente niente non so che dirvi forse un pochino bastoni ma insomma ragazzi sicuramente l'Italia ha bisogno di giocatori con altra mentalità e con altra voglia perché non puoi andarti a giocare un europeo in questo modo perché contro la Croazia volendo se lo vogliamo proprio mettere in maniera forzata avevi anche il pareggio e quindi tra tante virgolette quella prestazione poteva essere giustificata ma contro la Svizzera in gara secca dove passa solo chi vince questa prestazione non è assolutamente giustificabile non è comprensibile e non è tollerabile quindi ragazzi niente ne dibattiamo assieme nei commenti mi fate sapere la vostra perché insomma c'è da mettersi proprio le mani in testa e niente pensare alla preparazione per i prossimi mondiali e dobbiamo cercare a tutti i costi di farne parte visto che li abbiamo mancati se ricordo bene gli ultimi due non si siamo neanche qualificati e non vorrei essere nei panni di spalletti perché c'è tanto lavoro da fare questo europeo diciamo che ha messo in scena tantissime ombre molto nette quindi lasciate un video per supportarmi se volete iscrivetevi se vi piace il mondo del calcio anche se io diciamo che principalmente tratto l'argomento della squadra del Palermo quindi attivate la campagna notifiche condividete e niente vi rimando al mio prossimo video e speriamo che quest'Italia si possa riprendere il prima possibile ciao tifosi naturalmente sempre forza Italia a tifosi a tifosi Grazie a tutti.